GF VIP, Ignazio è davvero innamorato di Cecilia? Ecco la verità barra verticale VinZuiden Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sul Cancelletto Grande Fratello VIP, il reality di Canale 5, che ha appena visto Jeremias Rodriguez fare delle rivelazioni contro Cancelletto Ignazio Muser. Le ultime novità rivelano che il ciclista Trentino avrebbe fatto delle rivelazioni sulla sua storia damore con Cecilia Rodriguez durante un confessionale. News Grande Fratello VIP, Ignazio Moser, confessioni su Cecilia. . Le notizie sulla seconda edizione del Grande Fratello VIP, rivelano che Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono gli assoluti protagonisti di questa fortunatissima seconda edizione, che ha già proclamato il suo primo finalista. . La loro storia damore nata sotto i riflettori ha emozionato e diviso lopinione pubblica. . Come abbiamo visto la Rodriguez ha lasciato Francesco Monte per divergenze caratteriali, video, mentre Moser è partito alla conquista di lei riuscendo a malapena a frenare la passione. . Intanto la coppia procede verso un'unica strada, non curanti delle critiche e delle denunce per violazione del senso del pudore dopo il video all'interno dell'armadio. . Tanti telespettatori si stanno chiedendo se i due sono realmente innamorati o giocano di strategia per arrivare alla finalissima in programma nella prima settimana di dicembre. GF VIP, Ignazio Moser ama Cecilia? Ecco la risposta. . . Dalle novità che ci arrivano dalla casa più spiata dagli italiani, scopriamo che Ignazio e Cecilia continuano ad amarsi davanti alle telecamere, sebbene siano stati avvisati di frenare un po' il loro entusiasmo, visto che avevano suscitato un vero cataclisma mediatico tra gli utenti di Twitter. . . Inoltre, la sorella di Belen Rodriguez era stata apostrofata con i peggiori insulti da alcune persone fuori dalla casa più chiacchierata d'Italia. . Ma ecco arrivare il colpo di scena, Ignazio Moser ha confessato con l'aiuto di un grafico di nutrire un sentimento sempre più forte per la bella Argentina. . Inoltre ha confidato di essere sempre più preso da questa storia d'amore, tanto da essere vicino all'innamoramento. . Intanto che la sorella di Geremias e il Trentino offrono il meglio di loro all'interno della dimora più ambita d'Italia, in molti si domandano cosa sarà di loro una volta tornati alla vita vera. . Infine, Geremias Rodriguez ha rivelato a Verissimo, video, di nutrire speranze per un ritorno di fiamma tra sua sorella e Francesco Monte, in quanto Ignazio Moser è immaturo. . Per ricevere nuove news sul Grande Fratello Vip, vi basterà cliccare Segui, accanto al nome dell'autore.